Sono Sandy Clun, ho 53 anni, vivo nel comune di San Dorligo della Valle, sono sposato, ho due figli, Tadei di 25 anni e Tina di 15, sono un consigliere uscente della provincia di Trieste, penso di ricandidarmi anche perché volevo continuare il lavoro iniziato. Intendo impegnarmi nella conservazione del nostro territorio, dei nostri prodotti locali, vedi vino e olio, dare molta attenzione alla nostra viabilità e trovare il modo per risistemare le scuole che nel territorio triestino sono tutte che necessitano di una vera e grande manutenzione.